buongiorno amici amiche buon sabato 2 marzo 2024 ascoltiamo e commentiamo il vangelo secondo luca capitolo 15 versetti 1 32 un uomo aveva due figli il più giovane dei due disse al padre padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta ed egli divise tra loro le sue sostanze pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte le sue cose partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto quando ebbe speso tutto sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno allora ritornò in sé e disse quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza io qui muoio di fame mi alzerò andrò da mio padre gli dirò padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati si alzò e tornò da suo padre quando era ancora lontano suo padre lo vide ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò il figlio gli disse padre ho peccato contro il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio ma il padre disse ai servi presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi prendete il vitello grasso ammazzate lo mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa quante volte abbiamo sentito il bisogno di un abbraccio a volte non avevamo nessuno che ce lo desse altre volte chi avrebbe potuto darcelo lo avevamo allontanato quel giovane ha scelto di allontanarsi da colui che gli aveva dato la vita chiedendo l'eredità che gli spettava quindi di fatto per lui il padre era come morto quel figlio va via di casa si diverte si prende ciò che credeva essere ciò di cui aveva bisogno realmente spende tutta l'eredità e non ha più risorse per continuare a vivere è nel momento del bisogno che capisce di non poter far nulla da solo è nel momento in cui avvicina la morte che ripensa a colui che gli ha dato vita così decide di tornare a casa sua con che coraggio diremmo noi oggi eppure lui si prepara un bel discorso per commuovere il padre e credendo che grazie alle sue parole sarebbe stato riaccolto quel giovane non ha fatto i conti con l'amore smisurato del genitore dopo tanta sofferenza il padre appena rivede il figlio appena scruta da lontano quel pezzo della sua vita che torna gli corre incontro e lo abbraccia il solo ritorno del suo figlio fa tornare in vita il padre viene da pensare che a volte noi ci sentiamo afflitti morti distrutti senza pensare che invece il nostro atteggiamento abbia potuto portare gli stessi sentimenti in quel fratello sorella che avevamo davanti e che credevamo ci stesse togliendo la libertà ci sarebbe da chiedersi quale libertà cosa significa per me essere libero libero di autodistruggermi un padre non permetterebbe mai qualcosa del genere al figlio per il quale si è impegnato a farlo nascere e crescere prendendosene sempre cura ci accorgiamo di chi ha avuto cura di noi quando quella persona non c'è più con dio è così lui ci lascia liberi di agire come vogliamo ma nel suo cuore c'è sempre la preoccupazione che la nostra libertà possa rovinare ciò per cui lui si è sempre preso cura di darci e tu pensandoci se sei arrivato fino a dove sei oggi credi davvero che le forze e le capacità vengano solo da te stesso buona giornata a tutti e buon weekend